La morte di due giovani è avvenuta a seguito di due diversi incidenti stradali verificatisi in due diversi momenti e in due luoghi diversi, ma nella stessa giornata ha sconvolto le comunità locali di cui due giovani erano parte, ma l'intero comprensorio valdianese. Oggi giornata di dolore per i funerali delle due vittime, Mario Monaco, 23enne, di Buonabitacolo, deceduto lunedì mattina a seguito dell'impatto verificatosi a Trinità di Sala Consilina mentre era alla guida della sua auto, e Antonio Zienna, 27 anni, di Polla, morto nella serata di lunedì in un incidente verificatosi sulla SS19 tra Polla e Atena mentre percorreva l'arteria a bordo della sua moto. Nella giornata di oggi i funerali delle giovani vittime, previsti in forma ristretta, viste le disposizioni vigenti in materia di anticontagio, ma la partecipazione fuori all'ultimo doloroso saluto a chi ha perso la giovane vita tragicamente, colpendo duramente i cuori di tutte le comunità valdianesi, è comunque tanta. Questa mattina, alle ore 10, presso la chiesa Cristo Re di Polla, le celebrazioni della Santa Messa Esequiale di Antonio Zienna. Lacrime e commozione da parte di tantissime persone che hanno ascoltato pazienti fuori dalla chiesa, la Santa Messa e le parole del parroco che ha ripreso e tanti messaggi di cordoglio pubblicati sui social negli ultimi giorni. Sono parole di umana vicinanza e di affetto, ha detto il parroco nell'Omedia, ma spesso scontate che non ci danno la guarigione a lungo termine. Con il funerale in chiesa c'è la parola di Dio che va oltre l'umano e può iniziare a produrre in noi qualcosa che lenisce il dolore e ci dia una risposta. Questo pomeriggio alle 17, l'ultimo saluto da parte della comunità al giovane e amato Mario Monaco, 23 anni, altra giovane vita spezzata in quel terribile 3 agosto scorso e la cui morte improvvisa e tragica avvenuta nella mattinata di lunedì, ha profondamente segnato tutto il Vallo di Diano, ma in particolare Buonabitacolo, dove il giovane era molto conosciuto e amato per il suo animo aperto e gioviale. Presso la chiesa della Santissima Annunziata di Buonabitacolo i funerali del 23enne cameriere, con la salma in arrivo direttamente da Polla, dove è stata trasportata dopo l'incidente. Anche per il giovane Mario i messaggi di cordoglio e di dolore sui social sono stati tantissimi. Un piccolo ma significativo modo per testimoniare la vicinanza ad una famiglia che nella mattinata di lunedì si è risvegliata con la più drammatica e dolorosa delle notizie e che ha lasciato nel loro cuore una ferita che sarà difficile da rimarginare. La morte drammatica ed inspiegabile dei due giovani ha ferito profondamente l'intero comprensorio. A dimostrazione di ciò arriva il gesto simbolico dei commercianti di sala Consilina, su invito dell'associazione Io Centro, che ha proposto di abbassare alle ore 12 di oggi le saracinesche dei negozi per un minuto, in segno di lutto e di vicinanza alle famiglie Monaco e Zienna per la drammatica morte dei due giovani Mario e Antonio.